In cucina con FabiJ, nuovo programma televisivo, oggi vi insegnerò a cucinare Salmon steak and boiled potatoes, questo è l'ordine che mi è arrivato alla cucina Cuciniamo insieme ragazzi, il salmone, nel caso non lo sapesse, sta in frigo Prendiamo innanzitutto il salmone, facciamo moltissima attenzione No, ecco, questo non è un taglio, vabbè Si riempie la pentola di acqua e dopodiché andiamo a prendere le patate Se facciamo canestro da lontano, il piatto è ancora migliore, vediamo Perfetto, allora il piatto non uscirà benissimo Potato inside the acqua, prendiamo una da terra di quella che abbiamo lasciato prima e mettiamo pure questo Perfetto, bollite le patate, si prende la pentola e delicatamente si scola piano, let's go Uno, i dos Perfetto, no, piano, no Aspetta che, no Solo sul filetto questo, un, due, tre, quattro, cinque, let's go E il piatto è pronto, eh? Buon appetito Per altre ricette seguite la mia pagina, grazie